Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Il Buon Cristiano. Spero la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo Il Buon Cristiano perché esiste ancora gente buona, mette in mostra le proprie buone doti per la società, lavora con molta attenzione, non si stanca mai di mostrare la propria saggezza e i buoni propositi a chi ha bisogno. Un buon cristiano aiuta le persone a migliorare in coscienza, cultura e vita e dona quindi quella forza intensa per far emergere le persone da una situazione negativa. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Il Buon Cristiano. Esiste ancora certa buona gente che mette in mostra le buone doti e si comporta con saggezza instancabilmente per donare i propri santi propositi. Il Buon Cristiano aiuta le persone a migliorare in coscienza, cultura e vita, saprà degnamente far emergere. Il Buon Cristiano offre un aiuto concreto nei fatti e la natura maligna sconvolge, convertendo le persone nei seguiti. Il Buon Cristiano dona la coscienza sacra e in fondo una cultura fatta di saggezza che ogni mente travolge. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci.